Ci sono trattamenti di medicina estetica che più di altri sono riusciti a fissarsi nella memoria dei miei pazienti come un vero e proprio oggetto del desiderio. Per questo nuovo anno, il 2020, saranno ancora i più richiesti e i più eseguiti perché le prenotazioni mostrano con chiarezza una tendenza verso quelle terapie sempre più efficaci e sempre meno invasive che oggi la scienza ci offre su un piatto d'argento. Terapie delicate ed eloquenti e soprattutto risolutive. I trattamenti non invasivi che offrono risultati con tempi di recupero quasi pare a zero puntano su un concetto di bellezza dove al centro c'è l'individualità del paziente, della persona che desidera essere la migliore versione di se stessa e amare il proprio viso e il proprio corpo, seppur accettando anche le sue imperfezioni. A contendersi il titolo si alternano aree corporee sempre in mostra come il viso e zone che lasciano spazio all'immaginazione. L'obiettivo principale dei trattamenti di ringiovanimento è valorizzare la bellezza naturale. Grazie ai nuovi filler, a base di acido ialuronico e non solo, e alle tecniche evolute di infiltrazione, è possibile ripristinare i volumi del volto dando inoltre idratazione ed elasticità, cioè curando anche la pelle. Questo sta alla base di un trattamento che considero principe nel contesto del ringiovanimento del volto e che nell'anno da poco trascorso ha avuto un enorme successo. Il lifting liquido, ovvero la profiloplastica. Il segreto del suo successo è andato oltre ogni previsione, i risultati oltre le aspettative e la loro ascesa di pari passo con il loro grado di innovazione. Il segreto è abbastanza semplice per così dire, è aver applicato dei concetti chirurgici alla medicina estetica, aver usato il filler non come un materiale da riempimento, ma come un mezzo per liftare il volto e riposizionare i volumi, contrastando la forza di gravità e la lassità cutanea. Lo studio preciso e attento dell'anatomia mi ha permesso di iniettare il filler in profondità, sollevando letteralmente il tessuto, creando dei pilastri profondi e invisibili che hanno sostenuto e proiettato in alto i volumi del volto. Le persone che hanno beneficiato di questo trattamento hanno visto nel corso delle sedute di volta in volta migliorarsi e ringiovanire senza che il viso apparisse gonfio, anzi il risultato più slanciato di prima per effetto del sollevamento e della trazione. In sostanza il filler si inietta, come ho detto, in profondità, ripristinando la morfologia del volto, fin dall'impalcatura ossea che nel tempo tende a rimaneggiarsi e riassorbirsi, proprio come gli altri tessuti, con tecniche che, come ho detto in precedenza, hanno un'impronta chirurgica. Le vecchie tecniche, invece, prevedevano l'iniezione dei filler nei tessuti più superficiali, come la cute e il sottocute. Oggi, grazie a nuovi studi sull'invecchiamento, si è capito che l'esclusivo aumento di volume superficiale crea un anomalo gonfiore, che è un concetto ben lontano dal ringiovanimento. Posso affermare che oggi, con questa tecnica, si ottengono dei risultati che vent'anni fa si ottenevano solo inserendo delle protesi facciali, cioè solamente con la chirurgia. Uno dei risultati più eclatanti di queste nuove tecniche è il ripristino della linea mandibolare e del mento, che amo in particolar modo. Una zona del volto molto importante, perché è la base del volto stesso e che, se tenuta libera, cioè ben definita, netta, dona ringiovanimento, sostegno e slancio tutto il viso. Credo che tutti ricordino il profilo del celebre volto della regina Nefertiti. Ecco, la linea mandibolare dovrebbe essere proprio come quella, netta, definita e slanciata. Il volto apparirà non solo più giovane, ma pervaso da un'inconfondibile raffinatezza di lineamenti, perché un bel viso è il più bello di tutti gli spettacoli.